SMAO SMAO non è soltanto una fiera, è un'occasione di business, è una festa. Per gli operatori del settore, quindi per gli sviluppatori, per i rivenditori, per i consulenti di CT, è un'occasione imperdibile. E non riguarda soltanto la tradizione, quest'anno ci sono almeno 5 nuovi buoni motivi per partecipare. Innanzitutto con 500 espositori saranno centinaia le novità di prodotto, perché molti produttori aspettano proprio SMAO per presentare i loro gioielli. E più di 250 aziende sono proprio a Fiera Milano City, il 17, il 18 e il 19 ottobre, per parlare al canale, per presentare i loro programmi per i rivenditori. Un altro motivo importante è la formazione. A SMAO due arene saranno dedicate al canale, quindi ai rivenditori, e produrranno formazione a ciclo continuo, con seminari approfonditi ma veloci, di appena 50 minuti. E partecipare conviene, perché chi segue i corsi in SMAO riceve anche un attestato di partecipazione. Le app sono il futuro della programmazione e del business. A SMAO si svolge il più importante premio di questo settore, lo SMAO Mob Up Award. Per i rivenditori è un'occasione per partecipare, ma anche per conoscere quali sono le novità più importanti. E chi si vuole avvicinare a questo settore ha anche a disposizione un bar camp in cui confrontarsi con altri sviluppatori o altre società. I numeri sono tutto per questo settore, per il suo andamento economico. Chi partecipa a SMAO ha la possibilità di seguire anche il convegno ideato dalla School of Management del Politecnico di Milano, quindi sull'osservatorio, sul canale ICT e conoscere tutti gli andamenti e i trend più attuali dell'economia e dell'informatica. Le città non sono soltanto il futuro dell'uomo, sono anche il futuro della tecnologia. Con Smart City, SMAO realizza qualcosa di unico in Italia, mette insieme le istituzioni, i produttori di tecnologia e tutto il canale indiretto dell'informatica. Quelle persone che dovranno portare questa innovazione nel tessuto delle città. Anche in questo caso ci sono molti seminari da 50 minuti che permettono di incontrare i casi di successo italiani, quindi i progetti che riguardano le Smart City già realizzate, ma anche le istituzioni, i comuni, i sindaci, le regioni, per capire insieme a loro come può la tecnologia aiutare a migliorare le nostre città. Noi di Digitalic saremo a SMAO, la nostra rivista che mette insieme tecnologia e design, ha scelto SMAO come l'evento più importante dell'anno. Ora sta a voi, cosa aspettate? Venite a SMAO! Grazie a tutti!